...che sono richieste, non ho capito, possiamo fare tutto, non dobbiamo sospendere, secondo me ci sono i termini per magari prolungarla, magari daremo 20 giorni in più, però dobbiamo andare avanti adesso perché poi se non è troppo tardi, a settembre vogliamo che ci siano le mense ben in ordine, ben fatte e con il nuovo regolamento. È previsto anche un incontro con le parti sindacali? Ho fatto oggi un incontro con le parti sindacali, poi vedremo, il bando comunque prevede tutte le cause di salvaguardia come da norma, come da codice degli appalti, è ancora più severe, ne abbiamo messo una ancora più severe. C'è stato qualche errore o effetti di comunicazione in questa vicenda? No, direi di no, effetti di comunicazione ci sono sempre, compreso con i giornalisti, non sto scherzando, stiamo andando tutti nel senso giusto.